Ha voluto arricchire questo luogo, essendo protagonista San Francesco, San Francesco amava gli animali, ha voluto arricchire per le persone indigenti e anziane che si trovano in questa residenza di piccoli animali. Piante, animali, benessere, è quello che ci vuole per far sapere le persone anziane e l'abbiamo realizzato qui all'Oasi San Francesco. In questo modo possono prendere meno farmaci, possono stimolare le facoltà intellettive residue e quindi l'Oasi San Francesco, io penso che adesso più che mai si colloca prepotentemente come una vera eccellenza del settore e noi abbiamo l'onore di averla nell'As Napoli 3 Sud e qui a Castellammare. Penso che è la prima RSA della regione Campania che riesce a realizzare questo e quindi si meritano la medaglia di eccellenza del territorio. In questi due o tre anni abbastanza duri per via del Covid si è intensificato ancora di più il rapporto proprio perché si è vista la collaborazione reciproca nell'affrontare il problema e risolvere, cioè nell'andare verso lo stesso obiettivo, nella stessa direzione. E questo ha fortificato ancora di più il nostro rapporto con il dottore, con l'Aselo, perché abbiamo avuto poi il successo fortunatamente, finalmente, oggi di ritrovarci tutti quanti qui insieme. Qualche mese fa forse era utopica questa scena, questa situazione. Siamo felici di poter festeggiare oggi perché con la scusa di far intrattenere i nostri ospiti con queste attività come l'orto, come la fattoria, poi si deve festeggiare. È una festa per dare un calcio, scusate il termine, a questo Covid. Riprendiamo a vivere. Abbiamo creato questa nuova iniziativa, visto che siamo stati interrotti per non volontà nostra per qualche anno, ci siamo subito riadoperati per poter far stare i nostri ospiti sempre più sereni. Quest'anno abbiamo deciso di fare l'Arca di San Francesco, la fattoria, perché come l'anno scorso decidemmo di abbracciare il progetto dell'orto sensoriale, ancora di più con la pet therapy, così chiamata, si può interagire sempre più e dar modo ai nostri ospiti di poter fare tanta terapia occupazionale. L'Oasi di San Francesco si trasforma in Arca di San Francesco, proprio per dare il significato della massima accoglienza, che è la nostra mission quotidiana. Però quest'estate ci siamo voluti superare, dopo il successo dell'orto sensoriale dell'anno scorso che ha accompagnato i nostri ospiti in questa attività di terapia fisica e cognitiva, quest'anno abbiamo portato degli amici un'altra vita. Qua sono tutti animaletti docili, tutti controllati, registrati, abbiamo avuto tante autorizzazioni, sembra niente, per dare accodimento e per fare un attimino impegnare i nostri ospiti tutta l'estate non pensavamo che ci fosse un iter burocratico così importante. Ogni anziano, quando era nella piena giovinezza, molti di loro avevano un po' di giardini, un po' degli animali da curare. Abbiamo voluto portare un po' della loro casa e originare qui all'Oasi perché è l'attuale casa. Sono già tanti anni che collaboriamo ma comunque siamo presenti e vicini a tutte le attività che l'Oasi realizza. Perché? Perché ci piace instillare anche nei nostri alunni che sono più piccoli questo senso di responsabilità e di solidarietà verso chi ha una certa età, è più anziano e ha bisogno. Questi sono i più piccoli del primo ciclo, hanno preparato già i canti legati anche all'attività cioè quindi saranno coerenti con quello che oggi si organizza.